Buongiorno ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Predizioni Milan-Juventus, partita che si giocherà domani a San Siro Allora, sta partita è difficilissima per noi perché il Milan ha fatto un A1 contro il Real Betis Noi abbiamo perso con il Manchester United, quindi il Milan ha parecchiato e noi abbiamo perso Secondo me vinceremo sta partita, ma il Milan quando vuole fare qualcosa lo fa Quindi se dobbiamo vincere dobbiamo mettercela tutta e non dobbiamo fare figo e il cacchio Comunque, io penso che finisca 2-1 Juve, penso che segni Higuain prima per il Milan Poi penso che segni Dybala e poi Ronaldo sul colpo di testa Comunque, scrivete qua giù le vostre petizioni, è brutto sì vedere Ronaldo che... No, Ronaldo scusate, Higuain che gioca contro la Juve Lo so che è in prestito, ma non lo so per quanto Non lo so se già è andato a Milan, non so se tornerà da noi, non lo so Sì sì sì, deve soltanto vedere che cosa succede perché non c'è scritto niente su internet Comunque, scrivete qua giù le vostre petizioni, speriamo che vintiamo 2-1 Ultima partita a giocare